Arriverà martedì in Consiglio Comunale a Sant'Alfio il dibattito sul progetto di finanziamento valorizzazione dell'area del Castagno dei Cento Cavalli mediante la realizzazione del Parco dell'Arte e della Cavea dei Cento Cavalli per la promozione di attività culturali legati all'arte e all'architettura contemporanea. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Nicotra con un comunicato stampa sottolineando che la sua amministrazione ha avviato un contenzioso con la ditta esecutrice dei lavori e dichiara di avere avviato le interlocuzioni con l'assessorato regionale competente al fine di comprendere le motivazioni del provvedimento. Tutto quello che andava riscontrato ed adempiuto è stato portato avanti dall'amministrazione comunale, precisa così l'attuale primo cittadino nel comunicato. In merito alla delibera numero 1 2018 del commissario dottor Giliberto che condannava il comune di Sant'Alfio al pagamento di 210.000 euro, il sindaco nella nota ha dichiarato. Questa, è bene chiarirlo, fa riferimento ad un contenzioso nato negli anni 90, non più gestibile da parte mia, in quanto già definito con sentenza passata in giudicato. Certamente addolorato per una vicenda che, se gestita a suo tempo in maniera diversa, avrebbe sicuramente comportato un dispendio minore per il nostro comune. Oggi non posso che prenderne atto ed eseguirla. Oggi, non certo, nel novembre 2017 a bilancio e casse contabili chiuse. Come amministrazione ci siamo da subito attivati per definire la questione che è in fase avanzata di risoluzione. Questo dimostra che le casse dell'ente, in grado di assorbire questo duro colpo, sono più che stabili e gestite da buon padre di famiglia. Se poi il presidente del consiglio, Renato Finocchiaro, in accordo con il suo storico rivale, capogruppo dell'opposizione, Carmelo Coco, intende a tutti i costi screditare il comune di Sant'Alfio, esempio riconosciuto di comune virtuoso e sano, ne darà conto agli elettori che ai tempi lo avevano scelto in quanto facente parte della mia compagine amministrativa, conclude così il primo cittadino. Dal dibattito consigliare di questa sera potrebbero emergere i nuovi equilibri politici che porteranno il comune di Sant'Alfio alle amministrative di giugno.